Le motivazioni per le quali è stata premiata l'azienda? Diciamo per l'innovazione di questa mini livellatrice a controllo laser o GPS, è una macchina completamente automatica per fare in questo caso lavori in piccoli spazi e quindi come serre o altri terreni di ridotte dimensioni. Quali segmento di mercato o utenze si rivolge? Sì, in questo caso verso l'orticoltura, specifica sotto le serre, quindi ortaggi, fiori e altre colture, specifica in questi piccoli spazi. Naturalmente la macchina può essere, come facciamo tutte le altre livellatrici, da piccolissime a molto più grandi, quindi può essere su questa falsa riga di questo modello anche sviluppati modelli di grandi dimensioni. Quali sono i mercati esteri di riferimento? Noi le macchine, il discorso per esempio del fagiolino o come tutte le livellatrici, ci rivolgiamo al mondo intero, perché poi ci sono non tutte le zone naturalmente, però non precludiamo nulla. Ci sono iniziative particolari di comunicazione o innovazione o di divulgazione da effettuare? Sì, diciamo che noi da tantissimi anni facciamo EIMA, è un'occasione insostituibile e poi è venuto oggi con internet e altre fiere locali e di settore specifico.